Grazie Buongiorno sorella, un saluto qua da papà e tuo fratello Stammi bene e buona continuazione alla festa di Santa Croce Ciao ciao, saluto a tutti in famiglia Ciao Saluto a tutti Ciao Ciao Mi metto poco Chiusura sempre ermetica, ogni tiro 20 giri fa la macchina Se vuoi fare una granella grossa, ti fermi prima Grazie 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 Io il pomodoro lo metto all'interno con tutta la buccia, perché è vitamina. Ti va bene questa? Andiamo, arrivederci. Ci accattano la taggiana dopo il cilezzo? Brava Peppina e brava Pasqualina. Questa sugli spaghetti e salute, signor. Al ristorante ti fanno pagare 20 euro un piatto di Pasqualina.